I Cavalieri dello Zodiaco sono l'anime più bello di tutti i tempi e può sembrare un'affermazione un po' pretestuosa, poi specialmente da un canale dedicato ai Cavalieri dello Zodiaco, però nel corso di questo video andiamo un po' a vedere che cosa ha reso questa serie non solo speciale, perché se non fosse speciale non saremmo qui a parlarne ancora adesso, ma soprattutto unica è, almeno nel mio punto di vista, superiore a qualsiasi altra serie che sia mai stata prodotta in Giappone nella storia fondamentalmente. Allora, per prima cosa, i Cavalieri dello Zodiaco, e non è un caso se uso il titolo italiano come vedremo più avanti, offrono un mix unico di Oriente e Occidente. In nessun'altra serie giapponese abbiamo elementi della mitologia greca o della mitologia nordica, quindi divinità ma anche miti come Medusa, Pegaso e via dicendo, mischiati così bene ad elementi del fascino orientale, per esempio Virgo con tutta l'iconografia buddista, ma anche tutti i vari elementi visti per esempio in Crisaure o in quei personaggi più squisitamente orientali che sono presenti nella serie. Quindi per prima cosa è una serie che nella nostra cultura occidentale riesce facilmente a far leva perché riprende quei personaggi e quei nomi come Ercole, appunto Pegaso, Thor, Athena, che in qualche modo conosciamo sin dalla scuola, visto che fanno parte un po' del nostro retaggio culturale, ma riesce ad arricchirli con elementi di una cultura per noi molto più esotica come può essere quello orientale perché difficilmente cresciamo esposti più di tanto a concetti e pensieri come il buddismo, il kundalini o il mantra e introduce anche elementi che fanno parte in un certo senso della nostra letteratura, ovvero un concetto di cavalleria, un concetto di cavaliere, che se in superficie ispirato al bushido dei samurai giapponesi, può essere ricorregato in più in profondità anche al codice della cavalleria tipico dell'Europa, di almeno una certa parte del Medioevo, prima che poi la cavalleria decadesse in qualcos'altro. Quindi è una serie che offre quest'unico mix di elementi che non sono tendenzialmente presenti in altri anime. Molti altri anime sono o esclusivamente orientali o esclusivamente occidentali, ma mancano di mischiare bene queste due categorie. Poi, nei Cavalieri dello Zodiaco è fatto un grande lavoro di spessore di protagonisti ed avversari. Ci sono serie che fanno un lavoro migliore, per esempio Naruto, però nei Cavalieri non si può negare che praticamente tutti, non solo i personaggi principali, ma anche ogni singolo avversario, siano sviscerati e caratterizzati in una maniera abbastanza unica ed interessante. A volte sono caratterizzazioni che possono essere un po' semplici, però sicuramente non abbiamo quei nemici piatti, non abbiamo il cattivo che è cattivo soltanto perché vuole essere cattivo, non abbiamo quei bruti, quei panchettoni alla Kenny il guerriero che uccidono la gente giusto per il gusto di farlo. Quando un personaggio del genere compare, come nel caso di Cancer, è un'eccezione che viene utilizzata per mettere a rilievo e per evidenziare la dicotomia morale che c'è invece con un protagonista. E comunque anche in quel caso sono eventi molto rari, molto particolari e pressoché unici. In Saint Seiya è difficile non trovare anche tra gli avversari dei personaggi che piacciono, cosa che spesso non succede in altre serie. C'è chi simpatizza per Ser o per Majin Buu in Dragon Ball, però è innegabile che siano personaggi da una resa psicologica abbastanza semplice. Mentre in Saint Seiya abbiamo personaggi come Gemini, personaggi come Megress, personaggi come Orion combattuti tra onore e il dovere. Abbiamo insomma un lavoro psicologico di approfondimento reso particolarmente bene. Non parliamo poi dei protagonisti perché ognuno di loro ha comunque una personalità molto unica e ben evidenziata. Ora, ad onore del vero, il lavoro di approfondimento dei protagonisti delle serie è comune a tanti altri anime e manga. Però nel momento in cui si guarda nell'insieme protagonisti ed avversari, non si può fare a meno di apprezzare che tipo di lavoro si è stato fatto nel lavoro resa. Questo si manifesta in particolare con la caratura morale dei cattivi. Gli avversari, come dicevo, raramente sono semplici. Soltanto i nemici senza nome, che non meritano fondamentalmente più di un minuto di caratterizzazione, sono personaggi piatti e buttati lì, ma soprattutto nei 114 episodi classici anche gli avversari un po' più banali, un po' più piatti, solitamente trovano qualcosa da dire. E con la serie di Ade che questo principio viene un po' meno, ma anche la serie di Ade ci offre comunque dei bediremmi morali, come le frasi tra Androme e Deune, per quanto riguarda cosa cosa significhi compiere un peccato, cosa significhi essere malvagi e se davvero possa esistere una persona al mondo priva di colpa. E anche questo tipo di discorso, questa ripresa della Divina Commedia, questo lavoro di approfondimento di discorsi etici e morali, di diremmi quasi, rientra in quello che dicevo prima, circa l'utilizzo della letteratura e delle conoscenze occidentali mischiata ad un approccio più orientale. Se poi passiamo a un punto di vista tecnico, i Cavalieri sono fondamentalmente una serie sopra la media, sia per quanto riguarda i disegni, le animazioni e la colonna sonora. Le animazioni e i disegni hanno avuto ovviamente il grandissimo apporto di Shingwaraki, che è stato in grado di creare uno stile unico ed elegante, che differenzia i Cavalieri già da primo achito da qualsiasi altra serie. Ogni anime o manga ha un suo stile unico che rispecchia quello dell'autore, però è raro che abbiano lo stesso livello di eleganza di Sensei, visto in Sensei e nei Cavalieri. Questo comparto tecnico si manifesta anche in altri elementi. Se guardiamo i colori, Sensei è una delle primissime serie con armature, con ben tre livelli di colori, che è una cosa che non si nota finché nuova si guarda con attenzione, però aggiunge tantissima profondità alle immagini e ai disegni. Ed è qualcosa che ancora oggi non viene utilizzato spesso. Ci sono anime moderni, anche recenti, come lo stesso Naruto, che tendono ad utilizzare soltanto una o al massimo due tinte di colore, perché è un processo più rapido. Al contrario, in Sensei, nonostante fosse un lavoro molto più faticoso, con molto maggior dispendio di energie, si è aggiunta una terza tinta di colore, che fa miracoli poi nella resa dei disegni. Poi Sensei, fino alla serie di Ade, è un anime animato fondamentalmente bene. Non siamo ai livelli di Demon Slayer, per esempio, questo sicuramente, però per essere una serie comunque televisiva a uscita settimanale, è animata molto meglio rispetto a parecchi prodotti che escono ancora oggi, come i vari One Piece, Naruto, Breach e così via. E questo livello tecnico notevole si vede anche a livello di trame sceneggiatura nella qualità dei Führer, perché se tante altre serie, quando devono introdurre Führer riempitivi, tendono a introdurre trame e storie estremamente piatte e noiose. Pensiamo al nemico della settimana di Sailor Moon, il mostro del giorno, oppure al panchettona di Kenny il guerriero, che era sempre la stessa trama riproposta in ogni episodio, o ai Führer di Naruto, che sono praticamente inguardabili, o al modo in cui One Piece espande a dismisura gli episodi e i minuti per cercare di coprire meno manga possibile. In Sensei, invece, con qualche eccezione, abbiamo avuto Führer come la serie di Asgard, che rimane una delle più amate tra i fan, ma anche come Voto e Pavone, che hanno comunque un ruolo ruolo nell'approfondimento di Virgo e dando uno scorcio interessante di Fenix, il maestro dei ghiacci, che da una parte complicava continuity, però è comunque un personaggio che offre degli elementi interessanti e permette di approfondire Crystal, le prime battaglie prima dell'avvento dei Cavalieri d'Argento. Insomma, dei Führer che sono stati studiati e presentati in una maniera che ha richiesto del lavoro e dell'attenzione, e non semplicemente buttati lì senza alcun interesse. Sicuramente Führer sopra la media per quanto riguarda gli anime. Poi, come detto prima, ho utilizzato appositamente il termine Cavalieri dello Zodiaco a posto di Senseiya, perché per questa serie non si può non parlare del doppiaggio. Può piacere o non piacere, ci si può lamentare della fedeltà o meno, però è innegabile l'impatto che il doppiaggio dei Cavalieri dello Zodiaco ha avuto nel successo della serie nel nostro paese. Il famoso fumettista italiano Zero Calcare, un paio di anni fa festeggiando il compleanno dell'anime, diceva come i Cavalieri dello Zodiaco hanno avuto il merito di imparare, di insegnare l'italiano a una generazione di spettatori. E in effetti è così, perché per quella che fu una felice intuizione dell'adattatore dei dialoghi, si è scelto di dare non soltanto voci con delle interpretazioni teatrali, praticamente magistrali, a tantissimi personaggi, che è il motivo per cui così facilmente si ricordano monologhi come quelli del Maestro di Cinque Picchi, di Shun, di Shaka e così via, ma soprattutto di utilizzare un registro sopra la media comune con espressioni affascinanti, per esempio come osi parlare di me in cota o guisa, termini che fanno parte di un italiano sicuramente non più parlato comunemente, sicuramente più desueto, ma che proprio per questo colgono l'attenzione dello spettatore e se lo spettatore vuole può anche apprendere qualcosina da questo modo diverso di parlare, che è comunque affascinante perché non è un linguaggio latino abbandonato da milenni, ma è un linguaggio comunque che fa parte della nostra storia recente e ancora in qualche modo utilizzabile, seppur poco comune. E anche questo è un elemento unico dei Cavalieri, perché nessuna altra serie arrivata in Italia è mai stata doppiata in questo modo. Si è sempre scelto un doppiaggio, magari sempre di alto livello, sempre con doppiatori molto abili e capaci, ma con un registro normale, un registro fatto di terminologia, comunque da tutti i giorni. Mentre nei Cavalieri dello Zodiraco si è scelto questo registro unico, non esiste nessun altro anime nel panorama italiano che sia stato doppiato in questo modo e che ha sicuramente contribuito a fargli lasciare una traccia nei nostri cuori. Cosa possiamo concludere quindi? Sicuramente, se prendiamo i singoli aspetti che ho visto finora, ci sono serie migliori dei Cavalieri. In termini di trama, sicuramente One Piece è molto molto meglio. In termini di profondità dei personaggi, viene superato da Naruto. In termini del comparto tecnico, il recente Demon Slayer è anni luce avanti. I combattimenti sono un fattore soggettivo, però ci sono molti anime, come ad esempio Breach, Naruto stesso, in cui i combattimenti sono equamente affascinanti. Però, se in serie, i Cavalieri dello Zodiraco hanno saputo mantenere una media molto alta in tutti questi aspetti. Per cui, pur non essendo magari il migliore in nessuno di loro, tranne forse quello del doppiaggio, dove secondo me nessuna serie italiana ha fatto di meglio, ma anche considerando tutti gli altri aspetti. Pur non essendo la migliore in nessuno, è quella con una media più alta in tutte. Se fosse un grafico come quelli delle classifiche di forza dei Cavalieri, sarebbe una serie che ha 9 su 10 in tutto, e proprio grazie a questa media altissima si piazza poi al primo posto. Ed è per questo, per questo essere eccellente sotto praticamente tutti gli aspetti, che secondo me i Cavalieri dello Zodiraco sono il miglior anime di tutti i tempi. Voi cosa ne pensate comunque? Scrivetelo qua sotto nei commenti. Da me questo è tutto. Alla prossima, ciao!